Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo alcune idee regalo per il Natale 2020. Partiamo dal Cliphead, la lente che si aggancia a tutti gli occhiali e permette di lavorare con le mani libere. E' perfetta per modellismo, per lavori di precisione. Le lenti sono in vetro ottico. Poi vi proponiamo un pirografo base dal prezzo contenuto ma di ottima qualità. Per lavorare su legno, sughero e cuoio. Poi vi proponiamo dei microscopi. Un microscopio stereoscopico 20x con luce. Perfetto per osservare schede elettroniche, insetti, minerali, fossili, monete, orologi e per lavori di micromeccanica. Siamo contenti di potervi proporre anche una serie di prodotti artigianali da premana in balsassina. Forbici per la cura della persona, forbici per ricamo, per taglio cucito, pinze in acciaio inox, forbici per cucina, tronchesini, forbici per parrucchieri. Qui invece vediamo un pirografo di qualità made in Germany, con possibilità di controllare la temperatura da 400 a 750 gradi. È uno strumento importante, affidabile e per grandi lavori in pirografia. Poi proponiamo una serie di strumenti per modellismo e per hobby creativi. Trappagini manuali, taglia polistirolo, stencil per decorazioni. Abbiamo anche una serie di meccanismi per orologi da parete, per realizzare orologi a piacimento o per riparare orologi rotti. Se volete potete vedere il nostro sito www.elettronicadidattica.com dove troverete tantissime altre idee per un regalo originale Natale 2020. Grazie per l'attenzione e speriamo di essere stati utili. Grazie ancora.